Sono Marco Franzoni, responsabile commerciale di Booking Expert, azienda del gruppo Zucchetti. In era Covid il modo di prenotare i viaggi è sostanzialmente cambiato e se c'è un aspetto positivo nella situazione che stiamo vivendo è il fatto che l'utente, l'ospite, è ancora di più incentivato ad un rapporto, ad una relazione diretta. Perché? Perché vai alla ricerca di informazioni più dettagliate relativamente alla struttura ricettiva, magari anche alla ricerca di certezze sulle misure di prevenzione che vengono adottate e comunque anche alla ricerca della possibilità di avere un'offerta, una preventivazione diretta da parte della struttura. Da questo punto di vista chiaramente le strutture ricettive hanno bisogno di strumenti di gestione in questo momento molto efficaci che rendano sia rapida la gestione di queste richieste di disponibilità e anche che permettano di avere comunque una relazione personalizzata con l'ospite. Da questo punto di vista Booking Expert propone, diciamo, all'interno della suite di soluzioni Booking Expert, il nostro Booking Engine BGain è stato ulteriormente sviluppato per, diciamo così, andare a incrementare o migliorare ulteriormente la conversione delle prenotazioni dirette che vengono fatte dagli utenti nei siti ufficiali che sono più visitate perché abbiamo riscontrato una maggiore incidenza di prenotazioni dirette, pur ovviamente nella particolarità del periodo, ma rispetto alle vendite intermediate, le vendite dirette non hanno subito una flessione, in proporzione stanno crescendo e l'altra soluzione che è V-Direct, il Guest Reservation Manager, aiuta a gestire tutto l'on request, quindi tutte le richieste che vengono, diciamo così, ricevute dalla struttura ricettiva via telefono, mail, con l'invio di preventivi personalizzati all'ospite, con delle soluzioni pacchetti o comunque offerte personalizzate, sia da un punto di vista della grafica, dell'emotività e anche chiaramente della soluzione che viene proposta all'ospite e da questo punto di vista aiutano la struttura ricettiva a gestire questo flusso di prenotazioni dirette. Chiaramente Booking Expert propone una suite completa, all in one, diciamo di soluzioni per la distribuzione online. Dal PMS e soprattutto all'integrazione anche con tutti gli altri PMS del gruppo, alla suite diagata alla parte CRS, quindi veramente alla vendita, alla distribuzione, che è una suite anche molto personalizzabile, adatta anche a target diversi, dall'hotellerie alla villaggistica, al mondo anche dell'extralberghiero e anche una forte focalizzazione perché tutti i software sono stati pensati inattivamente multistruttura e questa è una grande forza anche per quanto riguarda piccoli o grandi gruppi e catene. La novità che presentiamo oggi a TTG è il nuovo Extranet del Booking Engine Bigain. La sfida è stata quella di rendere un prodotto e un software che chiaramente ha tantissime funzionalità, semplice a livello di utilizzo, grazie ad una grafica accattivante, anche bella da un punto di vista diciamo emozionale e soprattutto grazie ad un'usabilità che aiuta veramente l'utente a capire quello che sta facendo, perché lo sta facendo, i vari passaggi da seguire per riuscire a ottenere dalla propria esperienza di utilizzo del software il massimo in termini di resa nella parte front chiaramente di vendita online. Il gruppo Zucchetti è una certezza di conoscenze nel settore nel mercato dell'ospitalità, perché tante aziende, tante soluzioni, tanti software molto avanzati e soprattutto un grande sforzo già in atto di integrazione di tutti questi software. Quindi il fatto di avere una soluzione, una proposta che spazia dal software di gestione, software per la distribuzione e anche il marketing digitale che offrono agli albergatori una soluzione veramente completa e integrata di servizi, avendo veramente la possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze, le soluzioni migliori con la garanzia che si tratta di soluzioni molto avanzate e molto integrate tra loro.